TELESPETTATORI DI TELEQUATRO TELESPETTATORI DI TELEQUATRO TELESPETTATORI DI TELEQUATRO Tra l'altro la cerimonia sotto certi aspetti è stata una sorta di continuazione ideale di quello che sta succedendo in questi giorni in Regione per quanto riguarda il centesimo anniversario del viaggio della Salma del milite ignoto che appunto proprio cent'anni fa veniva portata da Aquileia a Roma. Ieri c'è stata proprio la cerimonia ufficiale, sappiamo poi anche che il Presidente della Repubblica Mattarella sarà in Friuli Venezia Giulia di nuovo il giorno 3 di novembre in forma privata. Ma comunque queste cerimonie continueranno. Mi pare di capire intanto che l'ospite è entrata nel nostro comprensorio. Con l'ospite parleremo di una mostra molto particolare che è stata inaugurata ieri al Museo Petrarchesco Piccolo Mineo e questa mostra ripercorre i rapporti letterari fra Dante e Petrarca. Prima di parlare di tutto ciò diamo una rapida scorsa ai quotidiani partendo dalla pagina online del Corriere della Sera. Come vedete c'è il G20 internazionale, Draghi ai leader, stiamo costruendo un nuovo modello economico. I vaccini hanno permesso la ripresa. Dopodiché ci sono come sempre il Corriere della Sera da conto anche delle spigolature. Accanto al Vertice, Johnson al Colosseo, gli attivisti, ci sono anche delle immagini particolari. C'è poi un dato che riguarda le incidenze più alte dei casi di coronavirus e vedete che in questo caso quell'equivoco credo purtroppo in cui i giornali delle volte incappano di intendere Friuli, anche Friuli-Venezia-Giulia. In Friuli e in Veneto le incidenze più alte dei casi, in realtà temo che tutto ciò riguardi Trieste. Il pezzo è in aggiornamento, vediamo se in qualche modo riusciamo ad entrare e capire se si tratta o meno di un equivoco. Ma credo che anche se forse Friuli per Trieste comunque riguarderebbe il Friuli-Venezia-Giulia e vorrebbe dire che la situazione non è certamente delle migliori. Negli Stati Uniti c'è una polemica che riguarda un'esecuzione letale, tra vomito e spasmi per 20 minuti, l'orribile fine del condannato a morte John Grant e poi c'è un'intervista con Joan Collins, l'ultima diva di Hollywood. Ancora poi una sorta di, come si dice, è scomparso Rossano Rubicondi, qualcuno lo ricorderà, era stato uno dei protagonisti di un'edizione dell'Isola dei Famosi ed è stato anche marito di Ivana Trump. È un personaggio che ha avuto un momento di notorietà negli anni scorsi, ma forse rispetto anche a tanti altri personaggi che pretendono tutto, era uno che al limite pretendeva poco e quindi dispiace anche perché è morto ucciso da un melanoma a soli 49 anni. Ancora al binario della Shoah il ministro Cartabia e la senatrice Segre con la vendetta non c'è mai giustizia. Intanto ci ha raggiunti la nostra ospite che è la dottoressa Antonella Sirugo del Comune. Abbiamo annunciato prima che avremmo parlato di una mostra che è partita ieri al museo Petrarchesco Piccolo Mineo ed è una mostra, dottoressa Sirugo, che ripercorre i rapporti quasi letterari fra Dante e Petrarca. Si tratta di rapporti sui quali poco si approfondisce. Sì, in realtà il rapporto tra Dante e Petrarca è un tema letterario, ma naturalmente nel mondo accademico è stato affrontato più che tra noi comuni lettori. Quello che era interessante era capire come all'interno della biblioteca civica, il museo Petrarchesco Piccolo Mineo, si hanno racchiusi una serie di esemplari di incunaboli rarissimi, molti dei quali provenienti dalla biblioteca arcadica, altri ancora da Domenico Rossetti, che ci consentono di ridisegnare insieme alla nostra grande raccolta petrarchesca i rapporti fra i due scrittori, con un terzo interprete che è Giovanni Boccaccio, che fece da tramite fra i due e che stimolò in Petrarca una risposta rispetto al suo amore, al suo interesse verso Dante. La mostra è interessante perché permette quindi di visitare le illustrazioni, le xilografie che rappresentano i poeti che furono messi in primo piano sia da Dante che da Petrarca, ricordando che i due scrittori erano distanti 39 anni e di conseguenza erano ben due generazioni e di conseguenza il fatto di accostarli in questa maniera è un po' una forzatura che non ci consente di far capire che esisteva una profondità storica. Ma sicuramente è stato anche il tema del evidentismo a Trieste e nella Venezia Giulia che ha molto valorizzato lo studio di Dante e su questo anche la mostra si accentra cercando di mettere in luce dai primi commentatori, dai primi copisti che giunsero ad Isola d'Istria, ricordiamo Pietro Campenni da Tropea, fino agli ultimi collezionisti che crearono addirittura delle fondazioni come Marco Besso, il fondatore della Compagnia delle Generali, di ridisegnare anche la storia di una passione dantesca a Trieste. Quindi c'è più di un aspetto da sottolineare. Per quanto riguarda i rapporti fra Dante e Petrarca, mettiamoci dentro anche questo terzo incomodo che si chiama Boccaccio, quindi non è un terzo incomodo da poco. La scuola quando deve in qualche modo sintetizzare le cose, mette quasi in contrapposizione Dante e Petrarca. Se poi vogliamo anche declinare tutto ciò in salsa triestina, ci si mette anche la rivalità storica tra i due licei. Noi siamo dantini, per cui figuratevi per chi parteggiamo. Si può parlare in qualche modo di rivalità oppure proprio questa è una sorta di deriva scolastica nel senso migliore possibile? Cioè è quasi inevitabile che nel nostro paese ci siano anche determinati dualismi. Da Dante a Petrarca, se vogliamo, fino a Coppi Bartali e fino a Gino Lobrigli da Sofia Locke. Sì, ma io ho adesso, curando la mostra, avuto il sospetto che sia stato Petrarca a suscitare questa rivalità di cui lei parla, perché di fatto lui in una delle lettere familiari, la quindicesima del ventunesimo libro, risponde a Boccaccio che gli chiedeva ma perché nella tua biblioteca, che è così grande, così ricca e preziosa, non hai neanche una divina commedia, anzi una commedia, perché si chiamava commedia. E lui risponde, no, non ce l'ho perché non ho mai voluto averla, perché non volevo che mi influenzasse, non volevo diventare una persona plagiata, uno scrittore plagiato. Io avevo altri orizzonti intellettuali, volevo scrivere un itinerario letterario mio personale. Quindi forse è stato proprio Petrarca che si smarca da Dante Alighieri ad aver indotto qualche critico a ipotizzare una rivalità. Certo, Dante non conosceva Petrarca, Petrarca aveva quattro anni quando Dante incontra il padre di Petrarca, anche lui esiliato, anche lui Guelfo Bianco, anche lui via da Firenze. Per cui in realtà è forse stata questa lettera, tanto che Boccaccio gli regala una copia della commedia, come dire, non ce l'hai, te lo do, mi manca, però effettivamente l'itinerario, tutto l'itinerario poetico di Petrarca è nel segno di Dante. Ieri la mostra si è in augusti, fino a quando rimane? Diciamo che è un riallestimento, quindi non ha un termine. Ieri è stata introdotta, questo riallestimento è stato presentato da uno storico d'eccezione anche fra l'altro. Sì, Nila Anthony Harris. Sì, è stato un vero piacere ospitare a Trieste il professore che è stato docente all'Università di Firenze e poi di Udine. Lui è il maestro degli studi di bibliologia, quindi storia della filologia del testo a stampa. Questo perché lui è inglese e quindi essendo inglese, per lui la storia della letteratura inglese scritta a stampa inizia da Shakespeare in qualche modo. Quindi da lì è iniziato, è stato un allievo di Connor Faye, dei più grandi storici dell'edizione a stampa. E una cosa importante è che lui ha introdotto me, sicuramente la biblioteca civica attraverso me, a un database internazionale che si chiama Material Evidence in Incunabula, cioè le testimonianze materiali dei testi a stampa del 400, che è un database dell'Università di Oxford e del CERL, cioè del Centro Internazionale delle Biblioteche di Ricerca, che permette di inserire i dati degli esemplari posseduti a Trieste all'interno di una grande calderone che comprende i libri di tutto il mondo e da questo ricostruire i passaggi di possesso. Per esempio in uno dei libri nostro più antico, quello del 1477, la nostra edizione della Divina Commedia, ho trovato una dichiarazione di possesso di un certo Bartolomeo da Cividale del 1528, in cui dice io ce l'ho a casa, ma da tanto tempo, ad antico tempo, ma si trovano anche i conti della spesa, perché alcuni libri vengono dai monasteri e ci sono i conti della spesa dei monasteri. E' un universo tutto preco. Secondo lei, qui è divertente perché noi ci diamo del tu, ma non ci siamo riusciti a mettere d'accordo prima, per cui passo da lei al tu, perché francamente mi viene meglio. Secondo te i rapporti Dante-Petrarca sono stati studiati approfonditamente o possiamo aspettarci nel corso degli anni qualche cosa in più? Perché molto spesso si leggono le riviste specializzate in letteratura e saltano sempre fuori delle novità, anche delle speculazioni, eccetera. E' messo un punto conclusivo oppure può esserci qualche novità in arrivo da quel punto di vista? Allora, sicuramente, quando noi parliamo di testi manoscritti, parliamo di un mondo che non era normato dalle caratteristiche dell'edizione a stampa. Di conseguenza ci potrà sempre essere un testo manoscritto che non sia stato letto fin nelle sue minute pagine e che contenga accanto magari a opere che si sa sono contenute dentro anche altri brani che sono brani di autori come i nostri, Petrarca e Dante. Questo lo si vede grossolanamente anche in alcuni manoscritti posseduti dal museo petrarchesco come quello dei Trionfi di Petrarca che contiene però dei sonetti di Dante alla fine. Quindi c'era l'uso proprio di copiare quello che a uno piaceva perché poi si faceva anche una copia per sé quando il mondo era quello del libro manoscritto. Tutto può succedere. Certamente non sarà facile anche perché a Trieste per esempio abbiamo avuto un grande codicologo ed è stato Salomone Morpurgo che è stato poi direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e il quale aveva trovato sì il manoscritto del detto d'amore ma siamo naturalmente alla fine dell'Ottocento. Quindi comunque sia questo tipo di studi così minuziosi li facevamo noi italiani e li facevano i tedeschi. Adesso forse c'è meno questo uso, questo studio. Il museo petrarchesco piccolo mineo è in via Madonna del Mare 13, se non mi sbaglio. Rimarrà là, sarà interessato da tutti questi spostamenti che sono in atto in questi mesi per quanto riguarda i musei, per quanto riguarda la Biblioteca Civica. Da questo punto di vista come siete messi? Siamo messi che rimane lì fin tanto che non sarà ristrutturato Palazzo Biserini. Il momento in cui verrà ristrutturato, mi pare che ci sia un progetto in corso, può essere anche che ampli un po' i suoi spazi ai piani alti della Biblioteca. Però per il momento siamo in via Madonna del Mare. Ma possiamo definirlo un museo di nicchia? Tutti l'hanno sempre definito tale, ma i musei sono di nicchia nella misura in cui si decide di riservarli ad un'elite. Noi abbiamo tentato strade di democratizzazione del museo attraverso le scuole. Infatti abbiamo appuntamenti per tutto novembre con le scuole. Il Covid ovviamente non ci ha aiutato. Abbiamo anche avviato, prima del Covid, laboratori del manoscritto, per cui chiamavamo i bambini delle elementari a miniare la loro lettera iniziale. gliela preparavamo noi e loro la miniavano con la penna, il calamaio e i colori. E questo anche abbiamo fatto alle medie, insegnando loro la rigatura del foglio. Chiaramente gli spazi sono un po' angusti in via Madonna del Mare e bisogna sempre trovare una sala separata dalle collezioni. Certamente che se riuscissimo a potenziare il nostro rapporto anche in digitale, miglioreremo. Per esempio noi in Manus Online, che è questo censimento dei manoscritti italiani, abbiamo già descritto tutti i manoscritti di Enea Silvio Piccolomini, che fu vescovo di Trieste, l'unico vescovo di Trieste a essere diventato Papa, col nome di Pio II. E questi li abbiamo poi digitalizzati nella Biblioteca Digitale Italiana, quindi si possono consultare da qualunque punto del globo. Questo è un modo di rendere democratica la cultura e soprattutto di mettere i documenti a disposizione di un pubblico di studiosi molto vasto. Ricordiamo gli orari di apertura? Sì, siamo aperti dalle 9 alle 13, dal lunedì al sabato incluso, esclusi i giorni festivi. E il mercoledì pomeriggio siamo anche aperti dalle 14 alle 18. Ok, allora grazie ad Alessandra Sirugo. Qual è la, perché io mi confondo con l'incarico, come devo dire, del Comune di Trieste? Io sono una bibliotecaria esperta, diciamo un funzionario bibliotecario. Funzionario bibliotecario del Comune di Trieste, buon lavoro. Grazie. Complimenti per questo nuovo riallestimento, anzi per questo nuovo allestimento. Grazie per essere stati con noi, rimaneteci perché subito dopo la pubblicità c'è il telegiornale delle 13.20. Grazie. 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 www.telequattro.it Dunque manca una quota rosa per completare il puzzle della Giunta Comunale. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ci ha spiegato perché serve ancora del tempo per raggiungere la quadra. Ma sentiamo il servizio di Gianluca Paradini. C'è il problema di una donna. Allora la legge prevede 4 donne su 10, minimo 4 donne e minimo 4 uomini. La Giunta Comunale ha bisogno delle donne. Manca il pareggio della quota rosa, ecco cosa sta frenando, e forse non solo questo, la formazione della squadra nel centro-destra in comune per decidere assessori e deleghe. Ieri dopo un'ora di confronto a Palazzo Cheba la riunione tra i vertici di partiti e liste si è bruscamente interromta. La fumata bianca non è arrivata, anche per dissidi interni alla maggioranza. Tra chi avanza richieste di più deleghi, chi vuole far valere il proprio peso specifico nelle decisioni, ineluttabilmente quello della quota rosa è un problema oggettivo. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza non nasconde nulla e spiega lo stato dell'arte. L'altra volta avevo 5 donne, questa volta ci manca una donna, nel senso che per esempio io nella mia lista ho tutti i maschi, no? E allora ho grilli e rossi, per cui non abbiamo donne, allora dovrei prendere qualcuno da fuori, la Lega ha lo stesso problema, Forza Italia ha lo stesso problema, mentre Fratelli d'Italia ne ha due di donne. Questo è il quantum della discussione. Quindi, fa intendere il sindaco, appena si deciderà sulla figura femminile, allora avremo una giunta comunale. Sì, bisogna prendere la decisione che uno deve prendersi l'onere di prendersi questa figura femminile, che naturalmente è ovvio che mettendo questa figura femminile una figura maschile va a casa. Il problema è questo, ovviamente. Evitare qualsiasi tipo di restrizione che deriverebbe da una recrudescenza della pandemia. L'intento del governo è stato formalizzato in una nota, dopo che il ministro Patuanelli aveva informato il Consiglio dei Ministri dell'incontro avuto lo scorso sabato con i rappresentanti delle organizzazioni che avevano promosso le proteste nei giorni scorsi contro l'obbligatorietà del Green Pass. Nella nota si precisa che il governo, nella sua interezza, ha confermato che le misure saranno, come sempre avvenuto, commisurate e varate su basi scientifiche legate all'andamento della pandemia e alla prosecuzione della campagna vaccinale. Con l'intento, appunto detto, di evitare restrizioni per un'eventuale recrudescenza della pandemia stessa. È inaccettabile cedere al ricatto di Ugo Rossi. Le sedute del Consiglio Comunale vanno svolte in presenza. Così, ieri sera a Ring il Vice Presidente del Consiglio regionale, Francesco Russo. Non possiamo essere l'unico Consiglio Comunale in Italia che non si riunisce perché c'è un no Green Pass che minaccia il Sindaco, la sua maggioranza e anche l'opposizione. Un Consiglio Comunale in modalità online per preservare la salute della Giunta e dei consiglieri in questa fase di recrudescenza dei contagi, oppure c'è imbarazzo per il caso Ugo Rossi che non può entrare in aula, causa mancanza del Green Pass e di cui la scelta di riunirsi da remoto? È una domanda che è emersa anche ieri sera a Ring durante l'intervista a Francesco Russo. Il Vice Presidente del Consiglio regionale ha rimarcato l'importanza del rispetto del valore delle istituzioni e del messaggio che verrebbe lanciato alla cittadinanza se il Consiglio Comunale triestino dovesse riunirsi in modalità telematica, mentre nelle altre città della Regione e d'Italia ci si confronti in presenza. Diamo l'impressione che siamo sotto ricatto di un signore, Ugo Rossi, che ha fatto legittimamente una battaglia politica. Non è che lei avrebbe agito diversamente, perché quella è la legge e quello è la legge, però sarà un tema, io ieri sera ho cercato di chiedergli più volte che farà. Il Consiglio regionale in quest'anno si è sempre riunito in presenza, se qualcuno di noi aveva dei problemi perché era in quarantena, aveva delle difficoltà o aveva preso il Covid, era collegato a fare i suoi. Ma la sua è una sfida però, Russo, la sua è una sfida, lui dice io voglio andare lì e voglio essere in presenza. Benissimo. Però io dico una cosa su cui mi sembrava di essere d'accordo, poi sembra che Di Piazza dopo averne parlato al telefono con me abbia cambiato di nuovo idea, ma noi non possiamo davanti a questa sfida cedere al ricatto. Le istituzioni sono una cosa importante e il Consiglio Comunale non si può non riunire in presenza perché qualcuno minaccia di presentarsi con l'avvocato o magari di fare casino in piazza. Perché secondo lei è legata a Ugo Rossi la scelta di stare tutti online? Beh, sicuramente questa cosa è stata scatenante, poi mi dicono che forse anche qualcun altro nella maggioranza che sostiene Roberto Di Piazza abbia qualche problema simile, ma a me non interessa, ripeto, c'erano tutte le modalità. E' partita la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale. Il siero è gratuito dalla fascia over 60, i soggetti a rischio e le donne in gravidanza. Asugia ha in ogni caso emesso una serie di puntuali raccomandazioni. Si concluderà a fine gennaio la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale. I medici di medicina generale hanno già provveduto alla creazione delle agende di prenotazione aperte da giovedì scorso. In questa prima fase per i medici di medicina generale dell'area giuliana si parte con gli over 65. In base alle disponibilità poi toccherà anche alle altre categorie. Per la fascia d'età dai 60 ai 64 anni la vaccinazione è gratuita anche quest'anno, così come da tempo per tutti gli over 65, per tutti i soggetti a rischio affetti da patologie croniche, donne in gravidanza e postpartum all'inizio della stagione pandemica. Qualora non si rientri nelle suddette categorie si potrà prenotare comunque la vaccinazione presso il proprio medico di medicina generale, ma il vaccino in questo caso dovrà essere acquistato in farmacia. Asugi ha emesso una serie di raccomandazioni. Presentarsi all'appuntamento con la massima puntualità e con un abbigliamento comodo per consentire una rapida svestizione e vestizione. Annullare l'appuntamento qualora si presentino sintomi riconducibili al coronavirus. Abbiamo un problema con il servizio. Per quanto riguarda le raccomandazioni, queste sono presentarsi all'appuntamento con la massima puntualità e con un abbigliamento comodo per consentire una rapida vestizione e svestizione. Annullare l'appuntamento qualora si presentino sintomi riconducibili al coronavirus. Chi non rientra nelle categorie per le quali la vaccinazione è gratuita dovrà presentarsi all'appuntamento già in possesso del vaccino acquistato a proprie spese. Ed è stata inaugurata al Salone degli Incanti la 37esima edizione di Trieste Antiqua. Una trentina agli espositori e la mostra al mercato dell'antiquariato che resterà allestita fino al 7 novembre. Un taglio del nastro che segna un ritorno atteso dopo due edizioni saltate anche a causa del covid. La 37esima edizione di Trieste Antiqua mostra mercato dell'antiquariato e visitabile da oggi al 7 novembre al Salone degli Incanti, ovvero negli spazi rinnovati dell'ex pescheria. Qui venivo a comprare pesce 20 anni fa, forse anche più c'era il mercato all'ingrosso. Oggi presentiamo una cosa che non è seconda a nessuna, un'esposizione di rara bellezza e poi stiamo ritornando finalmente alla normalità, si ricomincia. Siamo contenti perché finalmente riusciamo ad avere di nuovo il contatto con il pubblico. Dopo due anni ci è mancato tantissimo perché, come ho detto all'inaugurazione, l'antiquario per Antonomasi è quello che entra nelle case, recupera le cose più preziose delle famiglie e le trasferisce ad altre famiglie. Una trentina di espositori provenienti da varie zone d'Italia per il rilancio della manifestazione. Tra le chicche questo modello di Bucin Toro, nave da parata della Venezia dei Dogi, dello studio d'arte Ceschi in di Conegliano. In mostra mobili, gioielli, quadri, sculture, tessuti e molto altro. Si non è stato banale riprendere a organizzare manifestazioni fieristiche, questa è una fiera piccolina ma di altissima qualità. La pandemia ha cambiato il mondo delle fiere purtroppo, però siamo fiduciosi perché ogni espositore ha merce di altissima qualità. Ci aspettiamo comunque un flusso di visitatori importante. Ci vuole coraggio in questi momenti a fare una manifestazione con tutti i dubbi che vi sono, quindi va fatto un plauso. Manifestazione che riprende, una delle prime che finalmente rinasce e che ci porta a una ventata di diversità di cultura nella nostra Trieste. Quindi una promessa mantenuta quando nel 2019 la Camera di Commercio acquisì il titolo di Trieste Antiqua. Nuovo allestimento al Museo Petrarchesco Piccolo Mineo per ripercorrere i rapporti fra Dante Alighieri e Francesco Petrarca alla luce delle letture comuni, delle influenze e degli influssi. Orson sette secoli, nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 Dante moriva a Ravenna. Da ieri il Museo Petrarchesco Piccolo Mineo di Via Madonna del Mare 13 oriente riflettori sull'influsso di Dante nella poesia di Francesco Petrarca. Pur d'amor volgarmente ragionando, l'eredità di Dante in Petrarca è infatti il titolo dell'esposizione ideata da Alessandra Sirugo sotto la direzione di Laura Carlini Fanfogna, già direttore del Servizio Musei e Biblioteche. Il parallelo tra Dante e Petrarca resta ancora oggi centrale nella storia poetica nazionale. Due generazioni separano gli scrittori. In una lettera della raccolta delle familiari, Petrarca, più giovane di 39 anni, ricorda di aver incontrato da bambino l'esule fiorentino. Ne nacque una forte amicizia, come avviene tra uomini di capacità non comuni ed ideali condivisi. Petrarca ricorda che Dante si oppose all'esilio, si gettò con accanimento su un progetto avviato, trascurando tutto il resto. E quel progetto era la Divina Commedia. Il riallestimento ha l'ambizione di ricostruire le letture punto di riferimento dell'opera dei due poeti, cominciando dalla preferenza accordata da Dante e da Petrarca agli autori della tradizione classica e della letteratura volgare. Ne scaturisce un panteon poetico abitato dagli scrittori ritratti da Dante nella Divina Commedia e nei Trionfi di Petrarca, presenti nei Codici Miniati, negli Incunabili e nei libri dei secoli dal XVI al XVII della Biblioteca Civica Tiglio Ortis. Ieri, a cavallo dell'inaugurazione della mostra, ad illustrare le preziose edizioni del Quattrocento è stato Neil Anthony Harris, ordinario di archivistica, bibliografia e biblioteconomia presso l'Università degli Studi di Udine, noto a livello internazionale per i fondamentali studi sul libro italiano del Quattro e Cinquecento. Proprio come studioso attivamente impegnato nel gruppo di ricercatori e bibliotecari che studiano i libri editi nel Quattrocento, Harris ha dato impulso al progetto di descrizione degli esemplari di Incunaboli della Biblioteca Civica Tiglio Ortis, condotto da Alessandra Sirugos per il database Material Evidence of Incunabula del CERL. Chiudiamo al solito con la pagina meteo, vediamo la situazione generale sul Friuli Venezia Giulia, domani affluiranno correnti più umide meridionali, lunedì sera arriverà un intenso fronte atlantico preceduto dal Scirocco e seguito da aria fredda da nord. Per domani si prevede nuvolosità variabile con venti deboli, sui monti prevalenza di sole in mattinata e di nubi dal pomeriggio. E' tutto, ci vediamo questa sera alle 19.30, buon pomeriggio e più tardi.